Gennaio 2022, sono passati proprio tre anni dal record effettuato in Siberia nel luogo abitato più freddo del mondo. Sono venuto su questo lago alpino, sull'altipiano di Asiago, per incominciare i primi test in vista della prossima sfida. Sono le 17.30 del pomeriggio, la giornata non è stata particolarmente fredda e quindi il ghiaccio non è così solido, si rischia di cadere in acqua. Quindi aspetteremo le ore più fredde della notte e domani mattina all'alba proverò a correre sul ghiaccio, iniziando a carpire quelle sensazioni e anche la problematica di correre su una superficie molto strana come è il ghiaccio. 7.30 del mattino, temperatura dovremmo essere intorno ai meno 10, però è bello secco, non si sente, speriamo che il ghiaccio sia consistente per fare questa prova, la prima in avvicinamento al grande lago Baikal. Oggi ho voluto venire qui, sull'altipiano di Asiago, in uno dei luoghi dove si raggiungono invece le temperature più basse d'Italia. Andiamo a scoprire il perché. In queste doline si raggiungono le temperature più basse sicuramente del Veneto e tra le più basse d'Italia. Ma perché qui la temperatura, siamo a 1200 metri circa d'altitudine, magari è più bassa che sulla cima della Marmolada, sulla cima del Monte Bianco? Semplicemente un effetto di inversione termica, perché sulla cima del Monte Bianco sei in una libera atmosfera, percepisci il gradiente termico che vi è in quel momento. Qui invece si forma tutto per un effetto fisico, si accumula l'aria fredda, nel punto più alto che vedete là per esempio, la sella di outflow, la chiamiamo noi. Lì è il punto dove si accumula tutto questo lago di aria fredda che circonda tutta questa zona qui. Cioè ogni metro che si scende nella buca si perde un grado, un grado e mezzo. Quindi più la buca è più profonda, più perdiamo temperatura. Se la buca è profonda a 30 metri, possiamo perdere anche 30 gradi, 35 gradi. Quindi possiamo trovarci nella sella di outflow che sono 0 gradi e arriviamo sul fondo che può essere anche meno 30 gradi. Correre sul ghiaccio, la superficie non è come quella che tutti possono pensare, una pista di patinaggio liscia, perfetta. Ci sono purtroppo delle creste, delle piccole onde che si sono formate quando la superficie si è ghiacciata. Qui siamo in un piccolo lago, immaginate però il mare adriatico che si ghiaccia e quindi queste increspature diventano più evidenti ed è un grande problema correrci sopra perché ogni appoggio è instabile. Le condizioni perché ci siano le più basse temperature, che poi è come in Siberia dove ho corso io, ci deve essere l'aria praticamente terza, giornata di sole e quindi sereno. Sì. Non ci deve essere vento. Esattamente. Proprio perché c'è un ristagno dell'aria. E soprattutto un manto nevoso e una massa d'aria secca, povera di umidità. Che poi alla fine è quello che succede in Siberia, dove appunto l'anticiclone siberiano crea questa cupola di alta pressione dove l'aria della stratosfera scende giù al suolo e stagna e si possono raggiungere le temperature record. Si cominciano a sentire i primi scricchioli, il sole sta salendo, la temperatura si alza, il ghiaccio diventa un po' più instabile, fa un po' impressione in effetti sentire queste crepe che si aprono sotto i passi. In realtà il ghiaccio non è una struttura compatta e rigida, è elastica. Ogni volta che si appoggia il piede c'è una piccola flessione. A seconda dello spessore del ghiaccio questa flessione è più o meno evidente. Qui il ghiaccio è abbastanza sottile e quindi si sente e si vede anche sul bordo quando spingendo con le gambe l'acqua comincia a muoversi. È il segnale di terminare l'allenamento. Riccardo, dicevamo dei cambiamenti climatici che ovviamente qui sono evidentissimi. Ci sono ancora tutte le tracce e i segni della tempesta vaia che ha raso al suolo migliaia e migliaia di alberi qui sull'altipiano e anche in altre zone ovviamente delle nostre montagne venete e tutto questo è dovuto al surriscaldamento del nostro pianeta. Vento fortissimo che si è originato nel mar Mediterraneo, si è scagliato sulle nostre montagne, sulle prime montagne fino ad arrivare alle Dolomiti e ha abbattuto 18 milioni di alberi di cui un milione qui sulle piana di Marcese e nel piano di Asiago. È uno spettacolo veramente desolante, devastante, che fa riflettere molto. Questo è uno dei sensori. Questo è uno schermo solare, ovviamente impedisce che il sole influisca sulla temperatura che c'è attualmente qui adesso. All'interno c'è un sensore che registra la temperatura ogni 10 minuti o 15 minuti. Siamo ormai a fine gennaio, quest'inverno a livello di media di temperature non abbiamo raggiunto le temperature e il freddo che si raggiungeva negli anni passati. Esatto, non ci sono ancora state eruzioni fredde importantissime. L'ultima è stata pochi giorni fa, infatti qui abbiamo raggiunto i meno 24, qui dove abbiamo raggiunto. Ci aspettiamo altra neve e altre eruzioni fredde. Grazie a tutti. Grazie a tutti.